Grazie, Presidente. Oggi stiamo discutendo una mozione che vuole mettere sotto la lente di ingrandimento i trattati che l'Italia ha siglato con l'Europa, richiedendone una profonda modifica. Si tratta in sostanza di vincoli come il Fiscal Compact e il cosiddetto Fondo Salva Stati, che hanno come obiettivo apparente quello di diminuire il debito pubblico facendolo pagare ai cittadini. Debito che è stato generato da poteri forti, quali le lobby finanziarie, banchieri, speculatori e una classe politica clientelare e parassita. In realtà con il MES ci indebitiamo ulteriormente e lo facciamo affinché, qualora se ne presentasse la necessità, l'organizzazione intergovernativa che dovrà gestire il Fondo Salva Stati ci possa prestare a chissà quali tassi di interesse un po' di quello che abbiamo versato. Dal momento che, per pagare la prima tranche del versamento dovremo fare dei debiti, quel meccanismo non farà che indebitarci ulteriormente. È lo strozzinaggio perpetuo. Ed il Trattato che ha istituito il Fondo è costruito in modo tale da permettere allo strozzino di fare qualsiasi cosa senza essere mai chiamato in giudizio per quello che fa. Un tassello importante per la dittatura europea sui popoli, i quali saranno costretti a subire politiche di austerity sempre più rigide. Non già per rilanciare lo sviluppo sostenibile, ma per pagare il Fondo stesso. Le politiche di governance economica europea che ci stanno attuando e stromettono il cittadino dalle decisioni, esautorando di fatto un Parlamento che serve solo a ratificare decisioni prese a Bruxelles con l'avalo dei governi compiacentemente asserviti. Di fatto abbiamo perduto buona parte della sovranità popolare delegandole a strutture sovranazionali, che a loro volta rispondono ai mercati. Quel che emerge è che mentre milioni di cittadini europei stanno pagando con la loro vita le politiche recessive imposte dall'Europa, molte banche continuano ad arricchirsi, giocando con le economie di interi Paesi. Nel contempo la Troica, Unione Europea, BCE, Fondo Monetario Internazionale, chiedono all'Italia di cedere sovranità e di proseguire il processo di privatizzazioni avviato nei primi anni 90, durante i quali svendemmo interi asset strategici. Telecom Italia, Enel e Eni sono solo alcuni esempi. C'è qualcosa di losco in tutto questo. Chi sono gli attori che in questi anni hanno tradito i principi di comunità e solidarietà, su cui i padri fondatori dell'Europa si ispirarono? Com'è possibile che l'Europa rappresenti ormai una dittatura finanziaria, grazie alla regia di un club di banchieri tecnocrati? Quali sono gli intrecci tra politica, istituzioni europee, italiane e le banche? Si dice che siano gli uomini a fare la storia. Bene, allora facciamo un po' di storia e un po' di nomi. Il primo è consulente della Banca d'Affari Goldman Sachs, membro del comitato esecutivo dell'Aspen Institute Italia, organizzazione americana finanziata anche dalla Rockefeller Brothers Fund, che si pone come obiettivo quello di incoraggiare le leadership illuminate, le idee e i valori senza tempo. Questo personaggio è stato uno degli artifici dell'ingresso all'Unione Monetaria Europea dell'Italia. Si tratta di un ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Europea. Il suo nome è Romano Prodi. Ora passiamo al direttore esecutivo della Banca Mondiale dal 1984 al 1990. È stato artefice delle più importanti privatizzazioni delle aziende statali italiane, avendo ricoperto diversi incarichi nel Ministero del Tesoro durante gli anni 90. È stato governatore della Banca d'Italia dal 2002 al 2005. È stato vicepresidente membro della Management Committee Worldwide della Banca d'Affari Goldman Sachs. Ora è presidente dell'ente privato BCE, Banca Centrale Europea. Nel 2013 è stato inserito tra le cento persone più influenti del pianeta, classifica redatta dal Time nella categoria Leaders. Ma lui non è un leader politico. Decide solamente la politica monetaria dell'Unione e autorizza le banche centrali dei paesi dell'area dell'euro a emettere banconote. Poca roba, insomma. Il suo nome è Mario Draghi. Ed infine il presidente dell'Università Bocconi. Nel 1995 diventa commissario europeo per il mercato interno. Nel 1999 viene confermato commissario europeo dal governo D'Alema, che indica Romano Prodi come secondo rappresentante per la Commissione europea, di cui lo stesso Prodi diviene presidente. Tra il 2005 e il 2011 è stato international advisor per Goldman Sachs, anche egli membro del comitato esecutivo dell'Aspen Institute. Nel 2010 è divenuto presidente europeo della Commissione trilaterale, gruppo di orientamento neoliberista, fondato nel 1973 da David Rockefeller e membro del comitato direttivo del Club Bilderberg. Da queste incariche si è dimesso il 24 novembre 2011, a seguito della nomina presidente del Consiglio della sedicesima legislatura, durante la quale sono stati approvati provvedimenti come la ratifica ad accordi, quali fiscal compact, l'IDL costituzionale contenente il pareggio di bilancio in Costituzione, il fondo salva Stati e la conseguente macelleria sociale del decreto salva Italia. Il suo nome è Mario Monti. Questi sono solo alcuni nomi dei protagonisti della società italiana in ambito nazionale ed europeo, tutti con roli importanti in Europa, tutti inseriti in ambienti molto influenti, tutti molto rispettati dai partiti, tutti insegniti dell'onoreficenza di cavalieri di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica italiana. Tutti con un passato in Goldman Sachs, banca di investimenti americana che ha contribuito a innescare la crisi finanziaria del 2008, trascinando nel baratro le economie del mondo. Una banca delincora accusata di truffa e finita sotto inchiesta, definita da un ex-manager un ambiente tossico e distruttivo che considera i clienti dei pupazzi a cui vendere derivati avvelenati, pensando unicamente al dio denaro. Questi cattivi maestri stanno lasciando una traccia indelebile sulla quale la politica di palazzo non riesce a far altro che seguire senza nemmeno provare ad alzare lo sguardo verso un'economia, una politica ed una società diversa. Per incapacità o per complicità sarà la storia a giudicarlo. Con questa mozione proponiamo di restituire al Parlamento l'esercizio della sovranità sul proprio bilancio per non essere schiavi dell'Europa. Suggeriamo inoltre un'altra traccia, un'inversione di tendenza a rispetto ai dogmi della finanza e dei mercati che devono venire a meno rispetto all'economia reale che nasce dal valore oggettivo creato dalle persone e che per questo non può sottostare a qualunque vincolo finanziario ed economico.